Amici sportivi, buongiorno. Il calcio italiano scende in campo unito per la pace. È questo il messaggio che la Federazione Italiana Gioco Calcio vuole inviare in un momento così complesso per gli equilibri internazionali, con la decisione di posticipare di 5 minuti il calcio d'inizio di tutte le partite ufficiali in programma in questo fine settimana. I valori universali sono quelli dello sport, della fratellanza, del rispetto tra atleti di tutto il mondo. Non vogliamo girarci dall'altra parte interpretando un sentimento diffuso nell'opinione pubblica italiana che attraversa in modo trasversale anche il mondo del calcio e vogliamo mandare tutti insieme un messaggio chiaro. Il movimento calcistico nazionale è sensibile e molto preoccupato per quello che sta accadendo in queste ore. Lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace.